Vieni a Wargame, dove si può sparare agli amici, sì ma con i colori, divertimento garantito. Tornati a un'altra partita del Jolly League calcio a 5, si sono sfidati partito solo contro il mentile con una spiacciante vittoria. E' la terza vittoria consecutiva, prospettiva per il futuro? Siamo cercando di dare continuità a queste prestazioni per arrivare quando più notano possibile. Un parere anche del mister? No, è l'ennesima altra grande prestazione della squadra, noi siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada e come ho detto alla prima partita ci daremo parecchie soddisfazioni. A chi volete dedicare questa vittoria? Il nostro partito è stasera con voi. Benissimo, grazie. Voi invece quali sono stati i problemi della squadra? Il problema evidentemente è che non sono aumentato in partita. Io personalmente però ci credo, perché secondo me l'impegno e la passione non manca. La prossima volta penso che andrà meglio. E quanto ha influito l'infortunio di Ciro nei primi minuti? Secondo me tanto, perché Ciro, Damiano e Cortiere, Aristide sono quelli più dotati tecnicamente, quindi secondo me ci danno una mano a noi che ci danno una mano. quindi sconfitta meritata o no? No, è meritata che ci vanno benissimo e noi abbiamo tenuto il primo quarto d'ora. Poi abbiamo senso fortunato Ciro che era molto importante, quindi però ci siamo persi, sono nervositi e ci dobbiamo rifare sicuramente. Un bocca al lupo allora per la prossima partita. Ciao. Arrivederci alla prossima partita del Jolly League Calciacin. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.